Che cosa è successo dopo il gol del vantaggio? Perché la sensazione è che potevate chiudere la partita, tatticamente si era messa come volevate, però il Pontedera vi ha messo in difficoltà. A me il Pescara è piaciuto per 20 minuti nel primo tempo. Abbiamo fatto un buon primo tempo con tante situazioni che potevamo concretizzare, poi abbiamo cominciato altrettanto bene nel secondo tempo, abbiamo sbloccato la partita, abbiamo creato anche i presupposti per fare il secondo gol. Poi qualcuno ha chiesto il cambio in qualche pausa di gioco, Veroli, Pontisso, ma quelli che sono entrati sono entrati bene, Frascatore nel ruolo di Veroli è entrato bene, Giambò è entrato bene, Ferrari in quel momento di partita si faceva anticipare un po' troppo spesso, Cernico è entrato bene. Non abbiamo continuato a giocare, quello sì, abbiamo continuato a giocare meno, poco, e invece bisogna continuare a giocare perché le partite vanno chiuse. E soprattutto la cosa più importante è che non abbiamo difeso veramente il centimetro, l'uomo va difeso con tutti. In questo gruppo ci sono alcuni giocatori che anche per la poca esperienza a un certo punto pensano che sia tutto dovuto, invece così nel calcio non è. Poi fatalità, abbiamo preso un gol sciocco perché l'ennesimo calcio piazzato anche prevedibile, scontato, buttato da 30 metri. Abbiamo subito questo impatto fisico in area di rigore e ci hanno fatto gol. È un peccato, è un delitto, però... Però il Pontedera non ha demeritato. Ma è demeritato, loro hanno pensato soltanto a perdere tempo e a buttare la palla avanti, hanno fisicitato, si sono difesi, hanno demeritato. Ci hanno creato problemi con questi palloni, loro giocano una squadra che gioca poco, però ti crea problemi in area di rigore perché invadono l'area di rigore con questi calci piazzati. Noi non siamo stati bravi, avremmo dovuto continuare a giocare. Purtroppo negli ultimi 25 minuti non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto poco. È così e questo. Perché? Perché qualcuno cala, perché perdiamo un po' di vivacità davanti, perché dopo 70 minuti Ferrari 3-4 volte si è fatto anticipare e quindi quando sei basso manca il necessario accordo. Perché un pochino siamo calati in alcuni giocatori, un po' sul piano fisico e un po' di più sul piano mentale, perché alcuni chiedono il cambio durante la partita quando non dovrebbe essere fatto, perché tanto di cambi non ce n'è e quindi bisogna imparare a soffrire, bisogna imparare a difendere il centimetro, ma non serve neanche dirlo perché ci è successo altre volte e poi non puoi pensare sempre a quello che hai lasciato. Quindi le lezioni devono servire, ma a questo punto serve a poco parlare di quello di cui stiamo parlando. Loro ci hanno pareggiato la partita, noi non dobbiamo permettere a loro di pareggiarci la partita su situazioni anche abbastanza prevedibili. Non sono arrabbiato con qualche episodio in più specifico? No, non sono arrabbiato con nessuno, dobbiamo imparare tutti a giocare sempre e non a gestire il risultato, o perlomeno si può gestire il risultato perché l'avversario non ti gioca, perché ti butta palla lunga, ti impedisce di pressare, quindi ti allunga in campo, però le seconde palle vanno difese, vanno difese con più capabilità e invece troppo spesso glielo abbiamo consegnate. Loro erano molto più bravi di noi a difendere questi palloni su spazi stretti, anche alti, sporchi, perché quello facevano, però prendevano posizione, guadagnavano il calcio piazzato, noi non siamo stati bravi in questo. Un'ultima cosa, prima delle domande da studio. È preoccupato dal fatto che quella che dovrebbe essere la migliore caratteristica del Pescara, anche all'andata, quando le cose non andavano bene, cioè giocare a ritmi altissimi, soprattutto nei minuti finali, sta venendo un po' meno? Noi in questo momento abbiamo due o tre giocatori che sono in grado di giocare, come Pontisso, come Pompetti, ma che dal punto di vista della gestione degli allenamenti stiamo gestendo, perché per motivi diversi, insomma, non sto a ricordarli. Allora, nell'economia di una gara, due o tre giocatori, quando dopo 15-20 minuti calano la dinamicità, è chiaro che puoi apparire così, ma dal punto di vista fisico, complessivamente come squadra stiamo bene, non sono preoccupato di quello, assolutamente. Piuttosto della mentalità e della gestione di alcune cose, come oggi abbiamo evidenziato, sì, perché gli ultimi 20 minuti di partita andavano gestiti in un modo diverso. Auricolare al tecnico del Pescara Gaetano Auteri, per una domanda una da studio, poi arriva il presidente Daniele Sebastiano. Sì, allora faccio fare a Ivan Tisci, che è qui in studio con me. Ivan. Buonasera mister, allora mi allaccio alla disamina che ha fatto lei, mi trova molto d'accordo sull'aspetto mentale, ovvero che al di là di tante chiacchiere è molto importante in queste partite, lo sarà da qui alla fine e soprattutto lo sarà nella fase dei play-off, l'atteggiamento mentale, perché una squadra come il Pescara non si può permettere di pensare di fare solo una fase e ha ragione lei quando sottolinea il fatto che bisogna anche essere bravi a difendere magari il minimo vantaggio per poi chiudere la partita con qualche ripartenza. quindi mi trova pienamente d'accordo. Io le volevo chiedere questo, secondo me, vista la difficoltà nell'affrontare certe squadre quando soprattutto si chiudono, io credo che quello che è successo oggi nel secondo tempo, tipo il gran gol di Clemenza, che è un colpo che il giocatore ha in canna, credo che lei come tecnico sicuramente si aspetti un qualcosina di più da quei giocatori come Dursi, Clemenza, che possano avere lo spunto quando magari le difese avversarie sono chiuse, perché se no la risorsa importantissima che lei ha, secondo me, è quella delle palle inattive. Però da questi giocatori ci si aspetta qualcosina in più anche per la giocata individuale. Non mi piace parlare dei singoli, abbiamo trovato una squadra chiusa che praticamente non ha mai giocato, ha cercato di spezzettare il gioco, ma noi eravamo stati bravi anche nella poca continuità della gara, perché più di due o tre minuti consecutivi e non per colpa nostra non si è riusciti a giocare. Eravamo riusciti a creare situazioni importanti e pericolose nel primo tempo, poi il più l'avevamo fatto perché abbiamo sbroccato la partita cominciando bene il secondo tempo, così come il primo con un po' più di continuità. Il problema è dopo, il problema è dopo quando pensiamo di gestire male, lo facciamo nel modo sbagliato, non continuiamo a giocare, a correre, i motivi li ho spiegati prima. E poi fatalità, facciamo una stupidaggine perché, ripeto, prendere il gol così su calcio piazzato, schierati tutti, non attacchi la palla, non scoppi il pallone in aria perché è quello che va fatto. Gli concedi una torre, una palla sporca, quello se la ritrova sui piedi. L'errore è non aver difeso bene tutti, anche il centimetro, come atteggiamento, come dice lei, negli ultimi venti minuti e aver rinunciato a proporre coralità e gioco e a proporre situazioni in cui noi dovevamo ripartire. Quello è stato l'errore.